Gli hanno farcito il pane con dei chiodi, uno scherzo di cattivo gusto che avrebbe potuto causare danni ingenti ma per la procura non un reato. Una vicenda davvero assurda finita sul tavolo della procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo che ha visto come protagonisti un gruppo di amici. Un paio di settimane fa infatti alcuni giovani avrebbero preso di mira uno dei componenti del gruppo decidendo di infilargli una manciata di chiodi nel pane che avrebbe portato a casa. Il padre però ignaro dello scherzo lo ha dato in pasto ai propri cani che inevitabilmente hanno cominciato a lamentarsi e poco dopo dalle ciotole sono spuntati fuori dei vecchi chiodi arrugginiti. Padre e figlio si sono così recati al supermercato per lanciare l'allarme. Sulla vicenda è intervenuta anche l'Asla che ha provveduto a sequestrare tutto il pane proveniente da uno specifico panificio della provincia di Arezzo ed è a questo punto che gli amici hanno deciso di farsi avanti e confessare lo scherzo. Il gruppo poi assieme alla vittima ha deciso di rivolgersi all'avvocato Tiberio Baroni per comprendere meglio come comportarsi. I protagonisti sono stati ascoltati in procura e successivamente non ravvisando alcun reato l'intera vicenda è stata archiviata.